Arrampicandosi fra i colli delle Langhe, è possibile arrivare al borgo medievale di Corte Emilia, un paese di 2500 abitanti nel sud del Piemonte. Seguendo un'antica tradizione popolare, si è inventata una delle centrali termoelettriche più all'avanguardia degli ultimi anni. Camminando per le strade della città, si ha l'impressione che questo posto non abbia nulla di particolare, che sia uno dei migliaia di borghi dispersi per l'Italia. Ma dietro un anonimo supermercato, al confine del paese, nascosto agli occhi degli abitanti e dei turisti, c'è una delle perle italiane della ricerca dell'energia sostenibile. Io ricordo quando ero ragazzino, nelle abitazioni di Corte Emilia era fatto usuale che, anziché la stufa legna, esistesse come una stufa che bruciava i cusci di nocciolo. E quindi questo impianto che è stato realizzato alcuni anni o solo non ha fatto altro che continuare questa tradizione che era una vecchia tradizione di Corte Emilia. Nei primi anni 2000, agli amministratori locali venne l'idea geniale che forse quel bizzarro comportamento dei loro avi sarebbe potuto diventare un modo alternativo di produrre calore ed energia. Così hanno deciso di investire nella costruzione di una centrale sperimentale che generasse calore ed elettricità, con metano e gusci di nocciole. Funziona gusci di nocciole in quanto storicamente Corte Emilia è un paese, un forte produttore di nocciola, in particolare la nocciola Piemonte. E aver messo a punto e definito questo impianto di cogenerazione a cui sono allacciati, sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, sia per quanto riguarda la fornitura di calore, sono allacciati tutti gli impianti comunali, tutti gli uffici comunali, le scuole comunali di quattro gradi, partendo dalla scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e un istituto professionale che abbiamo qua a Morte Emilia. È allacciato a questo impianto di cogenerazione anche la piscina che di per sé può essere un po' un lusso che un comune piccolo possa mantenere una piscina coperta perché i costi di gestione sono notevi, ma proprio il fatto che la piscina sia collegata a questo impianto di cogenerazione fa sì che ci sia un grosso risparmio nel costo dell'energia. Oggi la centrale è in piena funzione, da esperimento è diventata realtà studiata anche all'estero. Vengono utilizzati gli scarti delle nocciole, il guscio, non solo la parte esterna, il guscio, che ha un potere calorifico notevole. Queste caldaie potrebbero anche funzionare a pellet, ma per motivi ecologici è meglio utilizzare le nocciole. Queste caldaie scaldano l'acqua del telo di scaldamento che c'è qui a Corte Emilia e il potere, il calore sviluppato dal telo di scaldamento serve a scaldare una decina di utenze che abbiamo qui, come la piscina, la chiesa, il convento e una scuola media. Queste dieci utenze che abbiamo qui a Corte Emilia non hanno la caldaia perché sono riscaldate grazie al telo di scaldamento. Un risparmio ecologico nelle emissioni di inquinamento, ma anche un risparmio economico per la spesa pubblica destinata al riscaldamento dei locali comunali. Un utilizzo degli scarti biologici innovativo che ha permesso di trovare uno sfogo per gli scarti del ciclo produttivo dell'industria della nocciola. Avevamo il problema di dove sistemare i gusci perché fino a pochi anni, forse, i gusci erano considerati comunque un rifiuto e quindi noi abbiamo dato una risposta a questo dove collocare i gusci e abbiamo collocato in questa centrale che produce energia elettrica e che produce calore al momento per gli uffici comunali potenzialmente potrebbe essere allargata anche dalle utenze private. Ecco così che con un'intuizione suggerita dalla storia e dalle proprie radici, quei resistenti contenitori ormai scarto di un processo produttivo rinascono nella loro definitiva distruzione a seconda vita.